Dopo il blitz delle forze dell'ordine, concluso domenica con l'arresto di una spacciatrice nigeriana che nascondeva un etto di droga nel reggisenuo e il sequestro di altre abbondanti dosi di stupefacente abbandonato, la questura di Padova ha sospeso per 30 giorni la licenza del restaurant African Soul. Il locale che si trova sotto il cavalcavia Borgomagno ed era già stato chiuso per 15 giorni nel 2008 e nel 2014 è ritenuto punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati che crea gravi turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Grazie.